Se hai riscontrato un problema riguardo all'errore ctfmon.e così è possibile risolvere il problema attraverso il recitit. Scrivi qua sopra recitit editor del registro di sistema e segui come amministratore. Una volta fatto in descrizione ho lasciato così il percorso file da inserire qua sopra. Copie così questo percorso file così ti porta direttamente nella cartella run vai contro v e lo metti qua. Scendi fino al giù fino a trovare la cartella run. Una volta entrati nella cartella run tasto destro sopra nuovo valore stringa vai a scrivere ctfmon basta cerchiamo sopra dati di valore. In descrizione ti ho lasciato sempre un altro comando da inserire sul ctfmon e copia e lo inserisci qua e fai ok. Una volta fatto più di tutto e riavvia il computer. L'errore lo puoi risolvere così grazie al registro di sistema al recitit. Quindi grazie a tutti per questa versione e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao.